Amici di calciovergato.com ritrovati da Palazzo Parigi, hotel nel centro di Milano, quartiere generale della Juventus. Alle mie spalle, qui dentro poco fa ha iniziato l'incontro tra la Juventus, presente paratici anche Marotta, arrivato circa tre quartiere fa, e di Campli, la gente di Orsolini. Non c'è invece Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell'Ascoli, evidentemente c'è già un accordo di massima tra i due club, non c'è ancora quello tra la gente di Orsolini e la Juventus. Vi faccio vedere alle mie spalle cosa succede. Praticamente nulla, perché hanno messo a questo striccione per coprire la stanza dove c'era Marotta, che è arrivato, ha pranzato con una sandwich in attesa di Donato di Campli, la gente di Orsolini, che è arrivato una decina di minuti fa, insomma si sta per decidere il futuro di Orsolini, e Orsolini che ha un passo dalla Juventus.